un buchino nell'uovo la domenica prima di pasqua luca e ad avevano ricevuto dai nonni un grande uovo di cioccolato al latte circondato da un ricamo di zucchero colorato rametti intrecciati foglioline e un nido con tre uccellini 5 tanti lo apriremo per pasqua aveva detto la mamma luca però non si dava pace guardare grande uovo sul tavolo allungava la mano fino al cellophane per toccare gli uccellini colorate immaginava fantastiche sorprese un branco di dinosauri una pista per le macchinine uno zaino dei videogiochi se stacco un uccellino vedo che cosa c'è dentro e il sabato aveva staccato l'uccellino azzurro e aperto una finestrella qui dentro non si vede un bel niente aveva pensato con l'occhio attaccato all'uovo nessuno si era accorto di niente soltanto a da per pasqua aveva avventurato per quel buchino poi era arrivato il momento della sorpresa una confezione di acquarelli non era proprio quello che luca si aspettava ma aveva così felice che si era convinta di fingere anche lui i loro bei quadretti formano la giusta ricompensa per i nonni